Non 116 mila euro e nemmeno 1 milione 800 mila, ma ben 55 milioni è quanto il Movimento 5 Stelle intende spendere per rendere il lungomare di Ostia interamente pedonale e ciclabile. Fondi che ovviamente al momento non stanno nemmeno sulla carta, ma che molto ottimisticamente dovrebbero arrivare dal famoso Recovery Fund. L'oracolo Paolo Ferrara senza un progetto autonomamente stanziato ai finanziamenti europei, prima ancora del parere del governo dell'Europa attacca Marco Possanzini di sinistra italiana che spiega buona parte degli interventi annunciati, tra cui le opere idrauliche per evitare gli allagamenti, le nuove aree parcheggio, la rimozione dello spartitraffico e magari anche l'abbattimento del lungomuro dovrebbero essere eseguiti con i fondi del Recovery Fund, ma l'iter è molto lungo e con un esito affatto scontato, quindi è quanto mai bizzarro e irresponsabile da parte di Ferrara trattare quelle risorse come se fossero già in bilancio, fa presente Possanzini. In quanto alle opere che invece verranno realizzate con i soldi di Roma Capitale, finalmente la presidente del decimo municipio, Giuliana Di Pillo, ammette lo stanziamento di 1.800.000 euro per la manutenzione straordinaria del mercato appagliatore, che a causa del rallentamento dovuto all'emergenza Covid difficilmente sarebbe stato impegnato entro la scadenza del 31 dicembre, è stato rimodulato per la pista ciclabile, che è più rapidamente progettabile. Strano, commenta ancora Possanzini, perché alcune settimane fa la maggioranza grillina sosteneva che i fondi provenivano direttamente dal ministero. Ormai le amministrazioni di questo territorio è una perenne televendita.